Sono oltre 17.000 i camperisti censiti in Italia dall'associazione Camper Club, un popolo in realtà molto più grande di turisti che non badano a spese durante le vacanze, circa 52 euro a persona al giorno secondo la Banca d'Italia. Una miniera d'oro insomma per città e regioni attrattive se solo fossero più accoglienti, il caso in negativo della città di Bari, che vede ogni anno sfilare oltre 5.000 camper senza uno spazio attrezzato e la necessaria ospitalità. Di qui la proposta del candidato sindaco di Realta Italia, Giacomo Olivieri, che ha firmato l'ennesimo impegno del suo programma, un protocollo d'intesa con l'associazione Camper Club Italiano con l'obiettivo di individuare un'area attrezzata nel quartiere di San Girolamo, nei pressi della Fiera del Levante. Bari è la città di San Nicola. San Nicola è amante dei forestieri, dobbiamo abituarci ad amarli forestieri. Quando arrivano i camperisti si devono sentire accolti con un'area attrezzata che possa dar loro la possibilità di vivere Bari nel migliore dei modi.